Il Movimento 5 Stelle è uno strumento meraviglioso perché consente a un cittadino che abbia intenzione, come me, di continuare a servire il Paese in modo efficace, di mettersi a disposizione per un periodo di tempo limitato, e questo è importante. Nel Movimento 5 Stelle non si creano carrierismi politici, nel Movimento 5 Stelle si può trovare lo strumento per dare il proprio contributo, un contributo di buona volontà e di esperienza, affinché il Paese possa dirigere verso un più concreto senso di moralità, di responsabilità. Manca la responsabilità delle azioni in questo Paese, cioè ci si comporta come se il domani non ci fosse, ci si comporta come se tutto si limitasse all'oggi. Ecco allora che bisogna invece fare una navigazione di prospettiva, fissarsi degli obiettivi futuri e puntare la pruva del Paese verso quegli obiettivi. Attualmente l'Italia è totalmente alla deriva ed è opportuno e necessario, anzi non è solo più opportuno, è necessario che si intraprenda una navigazione chiara. Bisogna far sì che il Paese e i cittadini possano migliorare la qualità della propria vita, possa essere restituita loro a gran parte della popolazione, a milioni di persone, la dignità della quotidianità. C'è una povertà che aumenta continuamente, ecco perché il reddito di cittadinanza, la pensione di cittadinanza, sono cose, sono provvidenze per così dire, non assistenziali, alle quali bisogna comunque arrivare. Limitando e erodendo le spese che invece non hanno, non hanno alcuna finalità sociale e penso per esempio ad alcune delle spese militari, che non riguardano il personale ma gli armamenti. Questo è uno dei primi punti che considero importante e di cui parleremo poi in proseguo di campagna.